Il Cus Palermo si aggiudica il derby e scontro diretto salvezza contro il Monreale che parte bene impegna Cascione subito al nono con questo bel tiro ma la formazione di Marramaldo tiene bene il campo e coinvolge tutti gli effettivi nella manovra offensiva l'intero tridente costruisce il vantaggio che arriva al 28esimo con Dalì che con freddezza la mette dentro il Cus che vive come una vera e propria liberazione questo gol che non arrivava nonostante in queste settimane la squadra comunque abbia sempre fatto vedere un buon gioco, una buona organizzazione mancava sempre il tocco vincente come in questo caso sul lancio strepitoso di Pane nel secondo tempo Rizzo, non lo scopriamo oggi, lo abbiamo già detto, uno dei migliori terzini di tutta la Sicilia quando gioca nel suo ruolo è un'altra cosa, così come un'altra cosa quando gioca Vitrano che la mette dentro e fa la differenza come gli capita spesso di fare quando c'è sicuramente la manovra offensiva del Cus e tutta un'altra, risulta la formazione giallo-rosso-nera con questo gol che rappresenta invece una sveglia per il Monreale che sino a quel momento aveva giocato un brutto primo tempo, è un abito di ripresa non ottimale ma qui c'è Zarcone che pesca un gol bellissimo perché lo fa nell'unico modo con il quale in quella situazione poteva segnare di controbalzo di prima e giro sotto il 7 così fa Caccione sfortunato perché dopo l'uscita va per riposizionarsi un compagno a terra, gli fa un involontario sgambetto e non riesce a intervenire, qui il Monreale che ci prova ancora e poi molto sfortunato con un palo colpito da lepre che gli nega il gol attimi finali poi di proteste, ci sono questi due episodi, prima il Cus a cui viene negato un calcio di rigore col difensore che si disinteressa la palla vedete nemmeno la guarda e va a intervenire sul diretto avversario, paradossalmente le proteste sono più del Monreale in questa fase finale di gara per l'episodio che adesso vedremo che dal vivo sembrava qualcosa di clamoroso, in realtà lo vedremo adesso, non è rigore vediamo il batti e ribatti, fate conto che sono gli ultimissimi minuti, pieno recupero, la sfera resta lì, viene spostata sulla sinistra si va al cross, il pallone viene deviato da Miliziano, grandi proteste clamorose, in realtà vediamo la prende esattamente con la parte della schiena che c'è sotto il numero di Maia, il direttore di gara è bravo e fa proseguire, la partita finisce, il Cus esulta, una vittoria molto importante che permette ai ragazzi di Maramaldo di raccogliere ciò che negli ultimi tempi non era arrivato il Cus Palermo di certo non ha la scuola per vincere il campionato, però questi 13 punti probabilmente sono un po' pochi per il reale valore di questi ragazzi, ma soprattutto per il loro impegno il 5 con i compagni, gli abbracci, adesso il Cus che va a sfidare Castellammare nell'ultima gara di questo anno solare del 2019 Grazie 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 Grazie